Ola, come vedete sono di nuovo qua in Maresana, sono sei di sera, sei un quarto, sono venuto qua per fare gli altri cash, stavolta mi sono portato dietro cioccolato, acqua, il tutore per il ginocchio, quindi dovrei essere abbastanza tranquillo, in teoria dovrebbe essere in quella direzione, quindi, boh, allora, qua c'è la mappina, io sono qua in questo punto e il camatta, che non ci sono mai stato, ma sembrerebbe, tipo qua, quindi immagino di dover prendere una di quelle due strade, quella più in alto, ok, ok, allora, dovrebbe essere la strada di sopra, come ho detto, e c'è quel sentireno lì che porta in mezzo al boschetto, ed era dove ero andato qualche mese fa con mia mamma, e c'erano dei tizi che stavano facendo dei falò, e li ho segnalati, così imparano, e in più ho raccolto un po' di immondizie che avevano lasciato in giro dei pezzi di merda, ma non andrò di lì perché non è di lì il cash, quindi direzione questa, molto più tranquilla rispetto all'ultima volta come discesa barra salita, e per fortuna, devo rifare un'altra roba del genere e muoio, anche perché mi sa che qua le more, comunque mi son messo a fare anche un po' di foto per Google Maps, quelle a 360, e infatti ne sto piazzando in giro un po' direttamente su Google, sto modificando alcune strade che non c'erano, e mi son preso bene, è carina come cosa, perché ci sono alcuni punti in cui le foto proprio non esistono, quindi mi sto fermando ogni tot, faccio delle fotine, poi le piazzerò su Google pian piano, e sta strada qua non l'ho mai fatta neanche una volta, ah, là si vede Bergamo Bassa, che io l'altra volta, con l'altro cash, ero là in cima, e cazzo, porca troia, ci credo che facevo fatica, e in culo ai lupi, minchia, pensavo fosse molto più vicino, ok, bene, qua c'è il gambero di fiume, ok, vietante, va bene, continuiamo, ragazzi, c'è un lumacotto gigante, quanto cazzo è grande, è la madonna, è la mia mano quasi, figo, adesso vi faccio vedere un po' il mondo attorno a me, con la telecamera 360, faccio una bella sfera immagino in editing, dopo, cosa c'è qua, uno scivolo, sì, è uno scivolo, ma non penso di andarci lì, sinceramente, percorso botanico, ah, qua fa vedere tutti i tipi vari di alberi, eccetera, ma non andrò lì, o devo andare lì, dove cazzo devo andare? No, devo continuare, c'è un albero di frutta qua, ma non ho idea di che frutto sia, e non c'è segnata la pianta, però, sono tipo, queste mini robe, sembrano quasi delle micro albicocche, non le mangerò, oh, questo è un fico, almeno, sembrerebbe un fico, no, dico cazzate, non è un fico, niente, ho detto una cazzata, non è un fico per niente, immagino che quella sia la camatta, non so esattamente cosa sia, magari dopo ci passo, tra l'altro, non so, sembra abitata, forse, ci sono le finestre, vediamo un po', allora, il cache dovrebbe essere tipo lì, vicino a quel, qualunque cosa sia, ma volevo salire un attimo qua, perché ho visto che ci sono dei cartelli che magari spiegano qualcosa, intanto che c'è ancora un po' di luce, vediamo, saliamo i gradaini, ai ai ai, almeno vedo anche se c'è qualcuno, se è abitato a sto posto, il mio ginocchio non ringrazia, neanche un po', oh, codio, ok, lì è pienissimo di vespe, hanno su dei pannelli solari, è tipo una sale espositiva, ok, e ci sono i vari cartelli, questa è la rosa canina, effettivamente quella che ho tentato di mangiare, vabbè, oggi non ho, cioè il cibo ce l'ho, quindi potrei anche evitare di mangiare sta roba, però volevo assaggiare queste qua che sembrano un pochino più mature delle altre, in ogni caso sui cartelli non c'è scritto se sono potabili le robe, se sono commestibili, diciamo, anche sulle mall non c'era scritto nei cartelli, quindi non so che senso a dirmi tutta la storia della pianta se poi non mi dici se posso mangiarla o no, sono comunque orribili, beh, adesso andiamo lì, andiamo, 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 andiamo ad esplorare, sta facendo buio porcatrò, andiamo, andiamo, immagino sia qua, ma do cazzo sta, quasi quasi abbassi un po' la telecamera prima che vada a sbattere, allora, dovrebbe essere, non mi piace sta discesa, non ho le scarpe date per andare sul fango, e ha piovuto tipo stanotte, quindi, allora, ah sì, qua, perfetto, perfetto, dovrebbe essere qua, ok, adesso difficoltà 2.5, ah però, ok, la cerco e poi appena la trovo vi dico, non vi dico quanto ci ho impiegato, anzi ve lo dico, sono qua da mezz'ora a cercare questo strozzo di un coso, ma porca puttana, carino, molto carino comunque, e questo a quanto pare è tipo un laghetto artificiale, ed è pieno di libellule, non so se le avete viste, ho dovuto lasciar lì lo zaino perché non ce la facevo più a girare con quel coso sulla schiena, ed eccolo qua, il cash, bellino, adesso gli faccio la firma, allora, oggi il 9, 9, 9, 22, ci manca un sorriso, allora, visto che sta un po' scendendo troppo il sole per i miei gusti, mi sa che a breve torno, quindi sarà un video corto questo, unica cosa è che ho visto che c'è tipo una tomba qua in giro, da qualche parte sulla mappa, quindi magari, vado a vedere qua sotto, sperando di non finirci dentro, vado pian pianino io, sappiatelo, magari questa parte la velocizzo un po' in post produzione, ah tra parentesi questi video saranno disponibili anche sul tubo, perché ho trovato un metodo molto carino per riuscire a esportarli entrambi allo stesso tempo, io sinceramente qua sotto un po' basso, non ho voglia di spaccare la telecamera, bene, ricominciamo la risalita, mi hanno massacrato le zanzare e le libellule pure, quindi la sofferenza, quindi niente, il prossimo geocache che è più o meno ancora in questa zona, mi sa che lo farò un'altra volta, comunque centro parco kamatta, approfondire gli elementi caratteristici del parco regionale, bla bla bla, ma vabbè, leggetevelo, vi faccio un freeze frame, comunque questo qua è un ciliegio susino, ma non c'è su niente, quindi non lo mangerò, a parte che sarebbe carino che scrivessero commestibile, non commestibile, sarebbe molto carino, per fare le cose bene, però vabbè, non lamentiamoci troppo, oh, ma c'è un altro stagno qua, eccolo dove arriva le zanzare, interessante, hanno massacrato, bastarde, ah, comunque lì sotto c'è a quanto pare un'area picnic, quasi quasi scendo, faccio una foto, ah, prima di scendere lì sotto, c'è il cartello con scritto stagno artificiale, ci sono dentro questi tipi di rana, diciamo, tritone, rana, rospi, raganelle, cose varie, tutte lì dentro, non ne ho vista mezza perché ovviamente immagino scappino ogni volta che dico start recording, magari un giorno andrò anche lì sopra, ma non sarà questo il giorno perché sta diventando buio, anzi, adesso scendiamo, dai, continuo a filmare, a che altezza è la telecamera, abbassiamo un pochino, e scendiamo, io soffro di vertigini, non so se ve l'ho detto, ma soffro di vertigini, ma non le vertigini classiche, tipo se vado in cima alla Tour Eiffel o che cazzo ne so, non mi succede niente, ho il terrore di queste robe instabili, e tipo salire su sgabelli, scale, apioli e simili, ma se tipo sono su una superficie solida posso tranquillamente camminarci, non ho problemi, davvero ho paura, poi il ginocchio scassato non aiuta, ovviamente, però io ho veramente il terrore, poi a salire non ho problemi, è a scendere il problema, a scendere, ho sempre avuto paura di scendere dalla roba, comunque sia un'area picnic, c'è anche la fontanella, quasi quasi una gozzata la bevo, anche se ho, cos'è quello, un percorso? Figo! Allora, mi stanno massacrando le zanzare, adesso berrò un goccino di acqua, è la madonna! Ok, interessante sta pressione acquosa, è un percorso, è un percorso proprietà privata, non consentito dalle 20 alle 6, ok, sono le 7, provo a farlo, provo a farlo, allora, visto che quello lì mi sembra un po' più incasinato e non ci voglio farmi male, penso che farò questo che sembra un po' più semplice, quindi immagino si vada dentro e si cammini su queste cose, Andiamo! Ok, aiuto! Ok! Devo non cadere per la telecamera, solo per la telecamera, se mi faccio male chi se ne frega, ma la telecamera non deve rompersi! Ho pure il fango sotto le scarpe, perfetto! Giuro, non so quanta paura ho, ma ne ho discreta! Ok! Yey! Si sprofonda un po' comunque! Questo non so cosa, cioè, devo camminarci così, e non mi arrampicherò, non penso proprio che lo farò, c'è un tizio inquietante in cima, molto inquietante! Ok, salutiamo il qualunque cosa sia, e mi appropinco verso casa, l'appropinquaggine! Magari qua c'è scritto cos'è, quanto ce l'ho alta, abbassiamo la telecamera! Ah, non c'è scritto niente! Zero! Boh! C'è un albero scorticato però! E ritorniamo a casa! Ok, sono praticamente quasi alla macchina, è lì! Cosa è che volevo dirvi? Ah, se volete supportarmi in qualche modo, che i miei video vi piacciono, mi hanno aiutato, robe simili, ci sono vari modi, tra cui leggere il link che c'è nella mia descrizione, vi portare tutti i social e anche tutte le altre robe. Ovviamente non sentitevi in obbligo e non buttate soldi per me se non ce li avete. Tutto qua! Bene, sono tornato alla macchina, unica cosa che devo portarmi la prossima volta anti-zanzare, perché mi hanno massacrato completamente, e la prossima volta farò il geocache dopo, che è ancora oltre dove ero prima. E basta, adesso torno a casa perché è tardi e devo dare da mangiare alle bestie. Ciao! Stop recording! Ebbene! Grazie! Grazie a tutti.